Tutti ai posti di combattimento Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Avvistato incrociatore nemico Avvistata corazzata nemica Caccia torpediniere nemico individuato Incrociatore 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 nemico individuato Corazzata nemico individuato Incrociatore nemico individuato Avvistata corazzata nemico Avvistato incrociatore nemico Incrociatore nemico individuato Incrociatore nemico individuato Corazzata nemico individuato Incrociatore nemico individuato Corazzata incorpore Corazzata corazzata Grazie a tutti i vostri cieli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.